Vengo al Pride perché sono orgoglioso. Perché è troppo facile dire che le cose non vanno bene e che non veniamo rappresentati se non siamo i primi a metterci la faccia. Perché è bello vedere quanti siamo, sostenere uguali diritti e possibilità per tutti e non in base a come sei fatta o a chi ami. Vengo al Pride perché i cambiamenti si portano con i fatti e non solo con le parole. Perché sono orgoglioso di essere un gay. Perché per parecchi anni, direi dall'84 al 86, ho aperto le danze al cassero. Sono orgoglioso di essere differente, sono un transessuale, sono nato donna. Perché sono orgogliosa del fatto che la prima famiglia che mi ha accolta in questa nuova città è stata la comunità LGBT. Perché nel 2008 non c'ero e quest'anno invece voglio partecipare. Perché penso che le discriminazioni per quanto riguarda l'orientamento sessuale e l'identità di genere debbano scompaire. Vengo al Pride per curiosità. Perché in un paese civile non possono esistere cittadini di serie B. Perché vorrei far sapere che gli omosessuali non sono nati sotto un cavolo, ma che hanno dei genitori. Vengo al Pride per essere parte di un grande pezzo di storia. Per condividere il mio orgoglio con quello di tutte le persone considerate diverse. Vengo al Pride per manifestare orgogliosamente quello che sono. Perché vorrei far sapere che avere dei figli omosessuali non è una vergogna. Perché ci tengo a condividere questa bellissima giornata con i miei amici. Perché è estremamente divertente, ma soprattutto per manifestare per il diritto al lavoro delle persone transessuali e transgender. E smettere finalmente di essere invisibile. Bella. E tu, perché vieni al Pride? E tu, perché vieni al Pride.